Ho fatto, ho fatto quello di vegano Grazie Che cazzo ridete? Guarda Lely come fa così Non vuoi fare così? No, io non pare, amo E guardatemi invece la prossima clip Maddaloni è ancora in aeroporto O meglio adesso sarà in aereo Ciao No, adesso c'è una scarpetta dentro il caffè Ma come cavolo si fa Fà la scarpetta nel caffè? La scarpetta nel caffè Una festa in bianco dunque E chiudiamo con chi non ha partecipato Antonella è rimasta Milano e Josh Ciao Grazie a tutti.